Questo è uno dei vantaggi che ha il mister di avere un gruppo che già conosce a memoria il suo gioco. Provare un modulo nuovo, e non è detto che sia quello durante il campionato. Noi stiamo provando un modulo che può darci una mano durante una partita, può darci una mano già dall'inizio partita, ma non significa che il Napoli giocherà in quel modo. È un'aggiunta in più a quello che già ci ha dato il nostro allenatore per tanti anni. Io concordo che saltano all'occhio forse i gol subiti l'anno scorso, però quest'anno ci daremo da fare sicuramente per subire qualcosa in meno. È anche un peccato che ci dobbiamo ritrovare nelle condizioni di dover cedere i nostri pezzi migliori in un campionato che è stato sempre ambito per tutti quanti. Però è normale che così automaticamente si abbassa anche un po' la forza delle grandi big e tutti possono aspirare a qualcosa di diverso.